Tasso di positività al minimo e calo significativo dei ricoveri in terapia intensiva, mentre si registra una lieve risalita dei degenti nei reparti Covid. Il bollettino quotidiano del contagio in Lombardia, a fronte di 46.901 tamponi processati, registra 1.670 nuovi positivi, pari al 3,5%. Se il numero di guariti e dimessi è di 2.816, in Lombardia si registrano però altre 67 vittime del Covid. Segnali positivi dalle terapie intensive, dove scende di 33 unità il dato dei ricoverati, che torna sotto quota 700 e si attesta oggi a 675. Risale di 16 unità invece il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, che si attesta in base all'ultimo bollettino a 4.639. La situazione delle province resta sotto quota 500 il dato dei tamponi positivi nel territorio di Milano, che in base all'ultimo bollettino si attesta a 454, dei quali 200 nel capoluogo Lombardo. Dopo Milano, i territori con il maggior numero di casi sono Varese 291 e Como 194. Sono 6 le province che registrano meno di 100 nuovi casi. Quindi... Grazie a tutti.